Il dispiacere e il rammarico è di non aver finito in 11 la partita, perché sono convinto che in 11 si giochi di più il nostro calcio, siamo più attenti, siamo più concentrati, siamo più bravi, dobbiamo muovere meno giocatori, dobbiamo fare meno cambi in campo, quindi il dispiacere più grande è quello. Per i due giocatori, questo era il debut, il loro primo match official per Haiduk, Vizco Chevelle e Dino Skorup, che hanno assistito per il nostro calcio. Oggi si sono comparati bene tutti e due, devono continuare, devono continuare a lavorare, perché oggi entrambi hanno raggiunto un sogno, però il primo passo ne devono fare ancora tanti. Il prossimo match in fronte di noi è il più grande coraggio del derby, il match contro Dinamo in Zagreb, cosa aspettate?